Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence TV per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Codi a tratti invece a causa del traffico intenso tra Incisare Gello e Firenze Sud sempre in direzione Bologna. E sempre a causa del traffico intenso ma in direzione Roma rallentamenti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Passiamo alla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. Sempre a causa di lavori rallentamenti in A15 tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Viabilità di Firenze a causa di un incidente restringimento di carreggiata e code in aumento sul viadotto del Ponte all'Indiano in direzione Peretola. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!